ciao a tutti ragazzi sono passati circa due anni da quando ho dato vita a questo canale ed è proprio per questo motivo che ho il piacere di presentarvi tutte le mie 45 creazioni che decorano e colorano le mensole della mia cameretta mi raccomando noi ci vediamo alla fine del video e auguro a tutti voi una buona visione grazie a tutti 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 grazie a tutti